buongiorno finalmente buone notizie oggi abbiamo definitivamente ricevuto da canon il piano di consegne degli rk f2 saranno nel nostro magazzino a partire dal 4 agosto o 4 6 precisamente e potranno già essere consegnati contestualmente ne arriveranno 24 e sempre durante agosto altri 30 oggi faremo una piccola riunione con paolo e con massimo i vostri referenti per definire le priorità e dopo verrete contattati da loro insieme a mauro per cominciare a fissare le consegne un altro problema risolto arrivederci